spiaggia in piena estate una bambina esce dall'acqua correndo verso l'ombrellone papà 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 dimmi tesoro che succede papà mi compri un materassino eh sì tesoro certo che te lo compro sì però papà lo voglio a forma di bagnino come forma di bagnino no tesoro la forma di bagnino non esiste come come no papà dietro gli scogli c'è la mamma che ne sta gonfiando uno proprio adesso se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis